Per fare tutto ci vuole un fiore, un re. Beh, veramente no? Per far le lattine ci vuole alluminio, per far la moca ci vuole alluminio, per far le pentole ci vuole alluminio. Per far la bici ci vuole alluminio, nella tavola periodica c'è l'alluminio. Para 500 ci vuole alluminio, per fare i treni ci vuole alluminio, anche per gli aerei ci vuole alluminio. Per fare i film di fantascienza ci vuole alluminio, la nostra terrestre è fatta di alluminio. E' l'alluminio, e' l'alluminio, per fare un sacco di cose ci vuole alluminio. Alluminio!